chi sta avuto? Ehi, eh, eh! Bristano tu io qua! Ehi, eh! Ehi, eh! Ehi, eh! Ehi, eh! Ehi, eh! Suda! Ehi, eh! ma come si amico ma cosa vuoi fare ma cosa vuoi fare ma cosa vuoi fare ma cosa vuoi non puoi fare non puoi fare non puoi fare ma non puoi fare non puoi fare ma cosa vuoi fare ma cosa vuoi fare ma io mi provocare non puoi fare per le mani non puoi fare in una situazione a dirige